Chissà se risponde Pronto? E' pronta? Sono Daniela e chiedo scusa ma ha dato il numero il parroco E' signor Renzo? Sì E' il parroco ha detto di chiamare per fare il giretto con le moto Ma perchè ride? Io sono Daniela Io ho la pisellina Ma non venite in parrocchia? Questo non sta bene Ma come cacchio si fa? Non so Ma non capisco tu ridi ma io sto parlando serio C'ho la pisellina E me lo fa E me lo fa Ma tu sei quello delle moto che fa brum brum? E tu sei il sottosegretario? Certamente E se smetti di ridere perchè se no io qua devo lavorare Capito? Sì sì va bene E facciamo le persone serie Allora vieni in parrocchia a fare il giretto Sto arrivando sto salendo sulla moto E la chiesetta hai capito dove sta? Come no Ha detto padre Giuseppe che te lo sei segnato Certo tutto qua Lì ha detto che siccome tu non credevi ha fatto chiamare la bambina Allora Allora via pietra bianca Perfetto Come aspetto Ma vieni Va bene Ma tu ridi sempre Mi stai bene cagapuzzella Ci sta pure un medico qua se ti vuoi far vedere Arriva io Allora Allora sta dietro bianca Ma quanto tempo non ridevi così? Eh sta un po' di bene Allora chiamai più spesso Tutti i giorni Allora vabbè Aspettiamo quello padre Giuseppe Ah sta arrivando un attimo Pronto buongiorno Pronto? Pronto? Si Vi ho passato un po' la bambina Perchè lei aveva un attimo L'aveva esitato a lui credere C'è questa bambina che voleva conoscere il segretario E siamo in due Silenzio anche mi fammi parlare E no volevo Allora pronto? Pronto? Si Mi sono pisciata Che fai niente che fai un prezzo Eh capito Che fai niente 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 che fai? Eh capito C'entrata Grazie a tutti